Per i 38 lavoratori di Sud Elettra, azienda per anni impegnata nell'indotto elettrostrumentale della raffineria Eni, si prospetta una soluzione diversa dal licenziamento. I rappresentanti della società lucana, dopo le richieste sindacali, hanno inoltrato istanza per attivare gli incontri necessari e arrivare alla cassa integrazione straordinaria per area di crisi complessa, uno strumento previsto anche per il sito produttivo locale. C'è la volontà di mantenere i livelli occupazionali, almeno per la forza lavoro impegnata a livello locale. L'azienda è rimasta priva di commesse e attende l'esito delle gare d'appalto per i lavori in raffineria, ma anche nei cantieri del progetto Argo Cassiopea. Al momento non ci sono altre possibilità di collocare gli operai, una soluzione analoga dopo un tavolo condotto con i rappresentanti sindacali di Fiommo, Razio Gauci e Fim, Alessio Pistritto, era stata definita per coprire i lavoratori almeno fino a conclusione del 2021. Anche per i mesi successivi però pare possibile arrivare in tempo breve ad una intesa sulla cassa integrazione, i referenti della società hanno inoltrato la richiesta e ora anche i sindacati attendono una convocazione dall'ufficio territoriale e dal ministero. Il rischio del licenziamento pare essere scongiurato in attesa della formalizzazione dell'accordo che dovrebbe sancire la copertura anche per i mesi successivi del 2022. La cassa integrazione è consentita soprattutto attraverso le misure per l'area di crisi che riguarda anche il territorio locale dopo la riconversione della fabbrica Eni di Contrada Piana del Signore.